Allora ragazzi stiamo facendo ruba mutanda, allora Valerio tiene le mutande, ci sono due squadre, è il classico gioco ruba bandiera però con le mutande Adesso vediamo Valerio che fa la conta, Valerio per favore mi fa vedere le mutande, le mutande ok, adesso presentiamo Sono un po' tutti brilli Numero 7, 3, 2, 3 E la scuola risulta grande, dai Alla meglio dei 3, al meglio dei 3 Numero 4 Vieni qua, vieni sotto la telecamera, sotto la telecamera, con i denti, con i denti, numero 5, con i denti, quando si tratta di mutande il Serafino non guarda in faccia a nessuno, quando si tratta di mutande non dire toccate, ma con i denti no, si fanno male, no, con i denti se fanno male, vale, c'è lo scontro, c'è lo scontro, c'è lo scontro, ti lo puoi strappare dalla bocca, i due l'ho detto, si, abbiamo vinto, abbiamo vinto, ho vinto Ivano, ha vinto Ivano, il risultato è la vittoria, è stato bello, non hanno vinto loro, abbiamo vinto, è finita la partita, aspetta non l'ho visto, non l'ho visto, rifatelo, rifatelo, è finita la partita, arrubba mutanda!